Salve a tutti, ben trovati all'appuntamento con l'informazione locale da Gianluca Virgilito. L'evento dell'Open Day che si è tenuto per volere della regione siciliana. Per le fasce over 60, i soggetti a elevata fragilità, stato molto positivo per la campagna vaccinale anti-covid-19. Da giovedì 29 aprile a sabato primo maggio, su un totale di 65.118 prime dosi somministrate nell'isola, il 66,52%, ovvero 43.319, hanno riguardato persone facenti parte dei target attuali che hanno aderito all'Open Day senza prenotazione. Le somministrazioni complessive nei tre giorni, tra prime e secondi dosi, sono state 90.554. Una donna di 42 anni incensurata e positiva al coronavirus, lo che è sottoposta all'isolamento fiduciario nel suo domicilio, ha violato la misura per svolgere i propri impegni. I carabinieri della stazione di Siracusa hanno denunciato in stato di libertà D.M per false attestazioni o dichiarazione rese per la diffusione di una malattia infettiva dell'uomo. A Montallegro, nell'Agrigentino, avrebbero organizzato una festa a base di droga, violando le normative anticontaggio. I carabinieri hanno segnalato e denunciato otto giovani. I ragazzini sono stati sorpresi venerdì sera all'interno di un magazzino intenti a festeggiare con l'uso di canne nel corso delle cosiddette ore del coprifuoco. I soggetti sono stati sanzionati per il mancato rispetto delle misure atte a contrastare la diffusione del covid segnalati alla prefettura per uso personale di droga. Un giovane muore a causa di un incidente stradale. Si tratta del ventottenne Antonino Marotta, sposato padre di due bambini, ha perso la vita dopo il sinistro verificato si invia Guido d'Arezzo nel quartiere Playa di Licata, nell'Agrigentino. L'auto guidata dalla vittima si sarebbe schiantata per cause ancora da accertare contro un muretto che costeggiava la strada. Sono intervenuti i sanitari del 118 in ambulanze e degli soccorso, nonché vigili del fuoco, che hanno estratto dalle lamiere l'uomo. I carabinieri stanno ricostruendo la dinamica dei fatti. E ancora un uomo di Lampedusa è stato beccato mentre stava importando illegalmente dalla Tunisia due esemplari di tessuto greca, tartarughe di specie protetta. I finanzieri del primo nucleo operativo metropolitano del gruppo di Palermo hanno denunciato il soggetto. Adesso parliamo del tema migranti. Si svuota l'hotspot di Lampedusa, un gruppo con 96 migranti minori non accompagnati è partito dalla struttura con il traghetto di linea per Porto Empedocle in direzione del centro d'accoglienza Villa Sicania a Siculiana. Nella giornata di oggi, se le condizioni meteorologiche lo consentiranno, la nave Allegra traccherà per consentire la possibilità di effettuare la quarantena ad altri 140 stranieri. Nell'hotspot di contrato in Briacola, in questo modo resteranno 37 soggetti. La prefettura di Egrigento, nel giro di meno di due giorni, ha organizzato il trasferimento delle 723 persone presenti in loco. Nonostante i numerosi sbarchi degli ultimi giorni, la situazione dunque sembra essere sotto controllo. Tre giovani sono stati segnalati alla procura dei minorenni di Siracusa per tentata estorsione. I ragazzini, di cui due non ancora quattordicenni, hanno rubato un ciclomotore, usato il metodo del cavallo di ritorno, richiedendo 250 euro a un coetaneo e al padre per la restituzione del veicolo. Chiudiamo, infine, con un'ultima notizia. Lo sport si è conclusa la trentottesima giornata del campionato di Serie C per quanto riguarda il giro meridionale. Si è conclusa così anche la stagione regolare. Il Catani di Francesco Baldini pareggia al Pino Zaccheria di Foggia per due a due. Probabilmente i pugliesi saranno anche il primo avversario in ottica playoff. Il Palermo sbanca invece il campo del Virtus Francavilla con il risultato di tre a uno. E con questo per il momento è tutto. Da Gianluca Virgilito grazie per averci seguito. Buon proseguimento di giornata sui nostri canali. Il meteo. Il meteo. Sponsor by Ecotech a Catania in via di Taino sedici San Giorgio. Bella Radio. Bella Radio. Le previsioni meteorologiche. In collaborazione con Trebi Meteo. Un saluto e ben ritrovati a tutti gli ascoltatori di Bella Radio da M Parigi di Trebi Meteo. Ci attende una giornata un pochino più variabile sulla Sicilia. L'approssimarsi di una blanda perturbazione mediterranea infatti responsabile di un incremento in spessimento delle nubi e di precipitazioni deboli e di breve durata in transito da ovest verso est. Il tutto con temperature massime e netta diminuzione. La ventilazione inoltre si rinforza dai quadranti set intronali sull'area ionica. Maggiori dettagli sulle vostre località vi attendono sull'app gratuita Trebi Meteo.